buongiorno buongiorno dalle lande di russi vedete innevata nelle piste in verità della val di sole trasmettiamo il flytac nag punto 2 di oggi perché ne abbiamo voglia con della musica di una bellezza unica abbiamo un po di ram abbiamo un po di george michael abbiamo un po di dio straits per voi solo per voi i nostri amici cari e parliamo un po di quello che è successo anche ieri sera il patatrack del girone della germania e della spagna dunque la spagna si qualifica per puro culo perdendo col giappone che stramerita il primo posto giustamente la germania per gli orri fatti e gli orrori visti in campo esce e si qualificano quindi giappone prima e spagna seconda culo della spagna forse voleva arrivare a seconda perché adesso c'è il marocco non so sono calcoli ragazzi che fanno solo queste squadre qui e adesso cominciamo con della musica come detto abbiamo un george michael di annata vai you have change col blues as the jazz gente che roba eh andavo piano eh vai grazie mille Il nostro corso gratuito 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti